Ma no, il microfono! Il grave rifiuto dello Stato di intervenire per le strutture... La parla, la parla, ma sta persa me con chi leca da parla? Io parlo con gli intellettuali! Crettino! E capirla, miei cari donne! Fa più male la lingua che la spada! Io so dove voglio arrivare! Ti, assenchi a tirare sui danne per passare il puzzle natale e te vedo a tirare per la rama la parla! Noi, chi abbiamo? Operai! La crisi del settore meccanico tessile si sta manifestando con dure ripercussioni sui lavoratori! L'ho già detto io! Facci, sceman! Noi, lavoratori! Ha detto noi, lavoratori! Ha, 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 ha! La seppii! Sto le piantinote, abituto sul microfono! Vem, volanti, somara! Oh! Manzè! T'ho in dos, ben pepe! Prima i fani raffinato, mi vengono anche i... So, so, so! Zorro! E allora, parla! E allora, che dici alla tua amisa? Da rompun noi ball! E mi interrompi la faccia! La faccia di su! Alla vigilia della cazza! Alla Gianni è stato prolungato il periodo di cassa integrazione! Si stanno attuando processi di ristrutto... di ristrutto... Du, 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 du! Paloma! Uè, ma tesi, senti un chi, senti un chi, vola colomba, un po' di rispetto per la situazione, fate la carità. Sì, ma che senti un chi non cerca la carità, ne? Dopo quarant'anni di laurea, invece da ciappare la liquidazione, se infine in piazza ciappare la carità, se smesse che ciappare più la paga, le pegano sgravelasse con tutti i ricci. Inuzza! Francesca, ma biglia, ciao, ciao, lo spazio ci ha rialato per tutti gli altri, d'oghele risasizza, pensate femmine, d'oghele risasizza. Che arriva gli albi senza petrolio. Uè, beh, c'è chi è da fare questa faccia? Ci stanno a fare una giorgianisa qua. La signora qua presente, ste faccio a capire che la cooperativa per solidarietà ci ha rialato d'occhino di cotechino. Cotechino! Oh, quant'è, buon guantanino! Buonino a tiro quel caldante, se l'intenda! Cia, cia, cia! Si fa lo sciopero della fame. Ma chi ha deciso lo sciopero della fame? La causa! Va bene, facciamo il referendum. Chi vuole la causa, vado da quella parte. Chi vuole i salamini, da quest'altra. Voi no! Voi due farete lo sciopero della fame con me, da questa parte. Assassino! Avanti! Fra due ore sono morto! Giù, giù lo capetto! Su, è in fretta! Avanti! Senti Orfeo, entriamo nella tenda a studiare il piano. Voi, continuate pure lo sciopero della fame. Ma biglia! Ma vi dov'è la metto là dentro, là dentro. È in commissione, sta studiando un piano. Lo stridì a troppo la tua amica. Dov'è la calassina che aveva il cervello, guardino. Ma che... E' vietato l'ingresso ai non addetti? Io sono la madre della tenda. Tu la lettri! E mi ho detto... Tu la lettri! È vita strana! Preva! Ma cos'è? Ma chi è che disturba? È quella lì, eh! Non vuole che parlo con te, eh? Basta! Anche. Ma insomma, che roba! Beh, ti do uno schiappo, me. Cosa ti dici fa? Come non vieni che fai lì, portati chi il mangiate, eh? Oh, mamma! Fai lì, devo il mangiate, eh! Tutte sei mesi, a te. Parla, non ho mangiate, eh! Perché? Intrì, fa lo sciopero della fame. Dicelo bene. Chi? Chi lì fa lo sciopero della fame? Fa vedere niente. Oh! Mh, che roba! La ca... La lista? Il menù? La carta? Che carta lì? Che... Che cosa ti dici? Stefa da mangiare. Tu fai la tua preferita, tis. Cos'è che ti fa? La trombetera. Tu fai la trombetera. Cos'è la trombetera? Il salato da faze. Tu fai la tua... Mamma! Il faze che... Te se ben che digerissi noi, faze. Oh, te l'avessi che da noccio mangiare. Il tempo non più. Mamma! Il mangio, sì, ma... Non quando sono in riunione. Che fai che io c'è da più da ferro della tenda, tis. Ma da dritto. Prego! Certi robi mi fanno... Eh, te cumpri bene e fatto. Non c'è che io c'è da più se interno. Pianto! E poi va che ramina che te porta qui? Da bulla! Ti chiederò un altro più sembra che la casa smalti con sui fiori. E venga più sembra che la le vostre... Sì, voti, l'unica roba che vola qua con il manico giusto. E questo se ti fa, no? Oh, piantala, va! Il fazeo la porta qui. Il fazeo la più niente usa se ti ha fatto. Ma dai, ma non... Non è per me, è per il partito. E ti te guardi a chi rolli. Ma lo sai che i pagguali li hanno inventati i russi. Li hanno inventati i russi? Sì. Perché? Perché finiscono in love. Oh, bello! Che mi tocca lì, te. Potte quel che fa per fai... È spartito da ne, o no? È spartito da ne, sì. Noi non vorremmo spartito, ma... La cisl... La cislava erano spartito da ne. Qual era erano spartito? E la will? La will? Le no, le sì, le... Le unni. Chi dà la will? I moll. Ma? Oh, oh, i molli, i moll, ma dopo a vegna non ti darei. E saprete da mangiare con lui, che dà tanto così. Che mi voglio così. Don, don, che arriva il Don Giuseppe, che arriva il Don Giuseppe. Eh, curio, anche il rosario, stai pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. È soltanto la fede che ci sostiene. Il Signore sia con voi. Non è. Senza chi troppo. Sono venuto a nome del consiglio pastorale e decanale. Per consegnarvi i soldi che i fedeli di tutta zona hanno raccolto in segno di solidarietà per le fabbriche occupate. Vivo i fedeli! A chi la consegna? A me! La mia benedizione a voi e a tutte le vostre famiglie. Grazie, grazie. Venga ancora a Santo Stefano. E dai, dai! 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 E dai, dai, dai! E dai, dai, dai! Un assegno. Ecco il bigliettino di buon auguri, ti capivo, per la fede. Sapete quanto vale questo pezzetto di carta? E non c'è n'accesso. Ignoranta vale 3 milioni e 800.000 lire! Allora siamo milionari, da dividere in 2.500 persone. Ladra, siamo troppi in Italia, ci vuole l'aborto Mamma, ti sei morta? Cosa c'entra l'aborto? C'entra, perché se il guerra vintan fa questi chi e anche i nostri non c'è da fare niente Cosa c'entra l'aborto? Don, Don, i cutaghti in costi Oh, crepa, ginueppo Se andrei tiramandimi in nulla o tiramandimi i cutaghti, va lì e ridai, va lì e ridai, va lì e ridai Sì, ma i cutaghti in lì, i milioni che glielin del costo Grazie